Stasà Salvaggio che ci fa qui a Sanremo? Volevo cantare ma alla fine già era tutto pieno. No, siamo venuti qua per un evento legato alla promozione della Sicilia e quando c'è il giustante di promuovere la Sicilia posso mancare. Chi meglio di te, insomma, dai. Che ormai giro tutto il mondo portando avanti l'orgoglio e così mangio le siciliane, diciamoci la verità. Senti, hai visto il Festival di Sanremo? È un pochettino, fino alle undici e mezza, vabbè, è sempre... C'è qualche canzone in particolare che ti ha colpito? No, no, guarda, all'inizio, magari la prima volta, sai, ci vuole un po' di tempo e ti devi ascoltare, fra un paio di giorni. Ci sono già delle canzoni che sono molto orecchiabili, però voglio dire, è sempre un bello spettacolo, insomma, ha avuto un sacco di successo, Sanremo è Sanremo. Senti, tu porti in giro per l'Italia, anche all'estero, in America, la nostra terra, la nostra Sicilia. Hai girato con uno spettacolo pupiata siciliana che continua ancora a girare, raccontaci un po' di questa esperienza mondiale. Ma guarda, giro tantissimo, adesso ritorno di nuovo, ora farò Londra addirittura, New York e Montreal prossimamente, perciò, insomma, sono sempre in giro, poi più giri e più ti chiamano per reclamizzare la Sicilia. E' bello, perché viaggio, mi diverto, incontro un sacco siciliano, mi piace raccontare le storie di quelli che emigrano all'estero, insomma, è una bella cosa. D'altronde in Sicilia tutti i popoli che ci hanno dominato, dai greci agli arepi, hanno sempre lasciato qualcosa. Come hanno 13 dominazioni, ora tocca anche a noi un po' andare, poi secondo me, guarda, io dico sempre, se tutti i siciliani dovessero rientrare in Sicilia, Sicilia affunnasse. Di quanto sempre, per dire. Ma certo, guarda quanto ce n'è all'estero e in Italia, è una cosa impressionante, guarda.